ciao a tutti e benvenuti su come realizzare tutos di ay ispirazione oggi sono qui con voi con un nuovo video sempre dedicato all'uncinetto un video un po particolare perché è proprio un video haul un video dove vado a farvi vedere tutti i miei nuovi acquisti sempre dedicati all'uncinetto qui davanti a me intanto questo bellissimo gomitolo che si chiama fairyland sono 150 grammi per 300 metri consigliano l'uncinetto tra il 3 e il 4 e ha una colorazione che mi fa impazzire voi sapete già quanto amo il pastello e soprattutto quanto mi piace il rosa vedete questa è una composizione multifilo sono uno due due tre quattro sono quattro fili assieme quattro micro fili assieme uniti e tutti vedete tutti sistemati e colorati in gradiente di colore i colori sono bellissimi vanno dal viola al rosa all'arancione al giallo e mi piacciono tantissimo guardate quanto sono carini sicuramente è molto molto fino sicuramente però è anche molto molto bello per lavorarlo con una sciarpa questo l'ho pagato 4 euro e per me è un affarone in quanto mi piace tantissimo lo trovo bellissimo non vedo l'ora di provarlo sarà stupendo forse è un po caldino per la stagione quindi magari me lo risparmio per un'altra situazione magari una situazione un pochettino più fresca anche se è principalmente cotone sicuramente una miscela molto molto dolce sembra quasi un gelatino in effetti sì glielo darei un morsetto ovviamente sto scherzando andiamo a vedere l'altro mio acquisto sempre molto colorato volevo farvi vedere questi due gomitorini qui che sono super colorati e super particolari bellissimi non so ancora cosa farci ma come potete vedere sono tutti realizzati a intreccio di colori e un solo filo possiede molteplici colori volevo un attimino infatti di aprirli per capire bene bene com'era si chiama wave onda e sono 180 metri di filo per gomitolo decisamente molto molto materiale e anche molto molto bello questo qui l'ho pagato 3 euro affarone anche questo e sono consigliati gli uncinetti tra il 5 e il 6 comunque si si vede in questo caso il filo è nettamente più sottile quindi abbiamo bisogno di un uncinetto un pochettino più piccolo qui ci dice che vediamo un attimino è 100 per cento poliestere quindi è sicuramente molto molto caldo anche questo e però volevo andare un attimino a togliermi il dubbio volevo vedere il filo com'era guardate che bellino praticamente il filo a questi 5 6 7 forse 8 centimetri di colore che si spostano è sicuramente meno spesso no scusatemi è più spesso sì rispetto all'altro pensavo che fosse il contrario invece però è molto molto particolare perché vedete il cambio di colore c'è anche tra un colore e l'altro non ce lo sta conetto c'è appunto questa piccola fusione del colore tra l'un colore e l'altro colore che secondo me è molto carina infatti qui tra il giallo e il rosa abbiamo questa piccola tonalità di arancione anche in questo caso è filo intrecciato sempre multifilo forse sono più di due no mi sa che sono due sono due fili intrecciati e super tesi vedete infatti quanta tensione e vedete anche come cambia il colore mi piace tantissimo e non vedo l'ora di usare anche questo non so cosa farci con questo forse una bella sciarpettona ma anche un cappellino non sarebbe affatto male e mi piacerebbe tanto 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 direi che con due gomitoli ho fatto anche un bel affare proprio perché mi piace la colorazione le due colorazioni sono un pochettino forse differenti perché vedete questa non so se è una questione di posizionamento ma sembra molto più forte rispetto a quest'altra che sembra un pochettino più pastello un po più tenue con colore un po più diciamo meno forti però questo lo devo vedere anche dopo perché le tonalità si ripropongono per quanto riguarda invece un filato molto molto diverso abbiamo questo qui questo qui l'ho comprato a 2 euro sicuramente è molto meno materiale però è sempre interessante perché vedete è molto molto spesso ed è tipo spugnoso mi piaceva tantissimo la consistenza è molto morbidoso mi piace l'effetto al tatto e insomma si chiama marie molto carino e sono 25 metri di filo ve l'ho detto sembra più coccoloso questo qui è sempre tutto poliestere anche lui 100 per cento poliestere e cos'altro ci dice a vedete qua consigliano l'uncinetto tra il 4 e mezzo il 5 e mezzo secondo me è un po troppo spesso per utilizzare quello da 5 e mezzo e basta però poi dopo potremo fare dei test non so che cosa farci con questo nel senso sì forse una sciarpettona bella coccolosa di quelle che piacciono a noi forse un collo di quelli infiniti quindi di quelli che girano su su loro stessi più volte non sono ancora sicura di che cosa voglio però lo scopriremo come ho detto prima è molto morbido sì ma è anche molto spesso se lo vado a prendere in confronto a questo è tipo il doppio se non il triplo se non sbaglio e anche il nonostante siano poliestere tutte e due sono molto diversi al tatto questo è veramente più spugnoso più più morbido più piacevole quindi non so questo forse ha appunto lavorato in modo diverso proprio per questo preciso motivo sto prendendo un uncinetto da 4 e mezzo e volevo provare a fare qualche catenella vado a fare questo piccolo test ecco questa è esattamente la cosa che mi aspettavo come avevo detto prima questo filo mi sembra fin troppo spesso per essere lavorato con un 4 e mezzo e non lo trovo per niente comodo anzi non mi piace nemmeno come esce fuori mi sento come se fosse effettivamente troppo grande capisco l'idea di voler creare un pattern compatto ma guardate già mi sto perdendo ecco non riesco non riesco nemmeno a trovare il grip sul filo è difficilissimo io ne utilizzerei mille volte uno più grande non lavorerei mai un 4 e mezzo su questo filato qui perché lo trovo fin troppo scomodo guardate capisco l'idea di volerlo fare super compatto capisco l'idea di insomma volerlo fare super uniforme magari quando è stata progettata la lana era questo lo scopo ma non ne sono molto contenta vorrei provare un attimino l'uncinetto da 8 e sentire com'è andiamo a fare qualche catenella anche con questo filato qui completamente diverso e lo sento anche molto meglio sicuramente l'effetto delle asoline è differente vedete come è grande vedete come sono grandi direi che comprendo l'idea del non volerle avere troppo grandi o troppo ampie o avere insomma questa costruzione che comunque non rimane omologata come quando utilizzo un uncinetto più piccino però per i miei gusti questo è molto più facile da utilizzare scopriremo solamente in seguito cosa ci vorrò fare però qualche test da sola e poi vedrò fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate però soprattutto in merito a questo filato qui perché comunque è un po più particolare degli altri proprio per il suo effetto finale ha inoltre questo effetto pelucchetto pelucchino dove si vedono tutti questi micro micro peletti che sono molto molto carini ricordano quei vermetti che andavano di moda negli anni 90 quelli tutti squisciosi non so se li ricordate erano pelosini anche loro andiamo a vedere adesso due gomitoli molto particolari ho comprato dei gomitoli scuri con questi effetti multicolor che mi piacciono tantissimo quando ho visto questo qui che si chiama linea confetti sono ancora di matto perché non l'avevo mai provato non l'avevo mai visto e mi piaceva fin troppo guardate che bello è tutto nero il filo nero è più spesso dell'altro e ci sono questi questo piccolissimo filo intrecciato che è super super fino però ha questa piccolissima lavorazione un pochettino più spessa che fa vedere questo nuovo colore che quindi crea nuovi contrasti che tendono anche al colore arcobaleno e mi piacciono da morire li trovo bellissimi voglio provare anche in questo caso a fare qualche catenella per vedere come vengono fuori sto utilizzando un uncinetto di media misura perché comunque il filo è molto molto piccolo mi piace tantissimo già mi piace tantissimo questo contrasto sul nero non penso di aver mai portato il colore nero sul canale quindi ci voglio provare anche questo è uno scuro però è blu anche questo ha questo effetto confetti sicuramente meno visibile dell'altro onestamente sono più interessata all'altro lo trovo molto più dinamico rispetto a questo questo qui ha un po effetto sala giochi degli anni 90 un pochettino più tra virgolette scolorito però capisco anche che è lo stile suo insomma è stato progettato così la lavorazione in confetti di questo qui non me la so immaginare perché come potete vedere i puntini di colore sono un pochettino meno evidenti sono meno presenti e quindi è completamente differente inoltre sono molto più tenui non voglio usare la parola sbiaditi perché capisco che ci sia una differenza stilistica però vedete come è diverso l'effetto sprinkle qui qui siamo aiutati da questo filo che passa assieme al filo nero che quindi crea contrasto invece questo ha già gli sprinkles incorporati però non noto una grande quantità di contrasto quindi fino a che non andrò a realizzare una stessa sciarpa non saprò che cosa dirvi e che quindi avrò sicuramente bisogno di più tempo per poter fare una creazione andiamo a provare anche qui qualche catenella ecco qui la mia catenella fatta con questi confetti qui diciamo in verità mi piace di più l'altra però ve l'ho detto andremo a vedere una volta fatta la nostra sciarpettona un grandissimo gomitolo arriva adesso sapete già quanto mi piace il viola questo qua si chiama moirana sì moirana e sono 150 metri diciamo che è un colore super super tenue di viola barra lilla barra violetto dipende anche da insomma cosa lo mettiamo in contrasto ma mi piace da impazzire anche questo per questo qui ho già in mente una super sciarpa non so se forse dovrei fonderlo con un altro colore perché comunque capisco che è molto 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 più tenue più chiaro e molto più basic però mi piace anche così perché comunque il minimalismo lo apprezzo tantissimo e questo qui ha un sì consigliano un uncinetto da 5 e mezzo questo qui è sempre tutto acrilico non tutto poliestri ma tutto acrilico anche questo qui andrebbe testato un pochettino il filo è uno dei tanti che abbiamo già visto che abbiamo avuto occasione di vedere uno di quelli intrecciati a doppio intreccio molto molto stretti tra di loro sicuramente non è troppo spesso sicuramente l'uncinetto da 5 e mezzo potrebbe andare bene perché comunque non vogliamo troppo spesso non vogliamo troppo spazio scusatemi tra le asoline di questo genere qui però possiamo dargli anche una chance con molteplici uncinetti io adesso vado a prendere un attimino il filo e sto utilizzando il mio uncinetto da questo era da 6 a non è doppio filo e intreccio ma triplo filo e intreccio una cosa che ho scoperto adesso e adesso io vorrei fare qualche catenella la grandezza secondo me è quella corretta non troppo grande non troppo piccolo andiamo a fare qualche catenella veloci veloci mi piacciono le asoline così sentite sentite posso sentire e quindi ve lo racconto come si lavora bene la tensione non è eccessiva all'interno delle asole e nemmeno all'interno del filo con questa misura di uncinetto qui e quindi mi piace assai mi piace tantissimo come si lavora mi piace tantissimo la misura che secondo me è la corretta sarebbe il caso di provare a fare qualche riga per andare a vedere se riesco a lavorarle bene però come potete vedere l'asolina rimane abbastanza ampia da poterci lavorare con l'uncinetto dopo quindi la trovo assai comoda e forse lo farò proprio così sicuramente sarà una bella lavorazione anche questa sicuramente ci vorrà un pochettino di più perché comunque il filo è molto 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 fino però mi piace anche questa idea e quindi ne sono contenta questo qui era il mio haul dedicato all'uncinetto o meglio al filato ne sono molto felice proprio perché mi piacciono tutte le colorazioni e credo che questa volta sono stata più fortunata del previsto proprio perché ho tutti questi tipi diversi e unici di filati fatemi sapere qui nei commenti se ne avete visto uno che vi piace particolarmente e se magari proverete anche voi a far qualcosa proprio con quel gomitolino il video di oggi purtroppo finisce qui io però vi invito tanto 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 a lasciare un like lasciare un commento e anche a condividere il video con i vostri amici vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale perché noi qui facciamo tantissimi video simili sempre dedicati al fai da te e sempre dedicati all'uncinetto vi ricordo poi di attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video per oggi è tutto noi ci vediamo molto molto presto con dei nuovi video e delle nuove idee io vi saluto ciao